carol non si fermò in nessun posto per il suo drink mentre ritornavano in macchina verso new york domandò a therese se voleva rincasare o venire per un po a casa sua e therese optò per andare da carol si ricordava che i kelly l'avevano invitata da loro per la festicciola a base di vino e torta di frutta che davano quella sera ed avere promesso d'andarci ma si disse che non avrebbero sentito la sua mancanza che brutte ore ti faccio passare disse all'improvviso carol domenica e ora questo non sono di gran compagnia questa sera che cosa ti piacerebbe fare ti andrebbe di andare a cena in un ristorante di new york dove stasera ci saranno luci e musiche di natale non è un night club potremmo cenare piuttosto bene tra l'altro non ci tengo ad andare da qualche parte per quello che mi riguarda sei rimasta in quell'inferno di negozio per tutta la giornata e non abbiamo fatto niente per celebrare la tua liberazione a me basta starmene qui con te disse therese e cogliendo nella propria voce il tono esplicativo sorrise carol scosse la testa bambina bambina dove te ne vai sola soletta poi qualche istante dopo lungo l'autostrada del new jersey aggiunse ho un'idea e svoltando con l'auto in una piazzuola inghiaia di fianco alla strada si fermò vieni con me erano di fronte a una bancarella illuminata su cui si ammucchiavano alberi di natale carol le disse di sceglierne uno né troppo grande né troppo piccolo caricarono l'albero nel retro dell'auto e therese riprese posto accanto a carol con le braccia cariche di rami di agrifoglio e diabete vi premeva contro la faccia e aspirava la verde intensità del loro odore la loro pulita fragranza che era come una foresta e come tutti gli artifici del natale le decorazioni dell'albero i regali la neve i canti natalizi le vacanze era l'averla finita con il negozio e l'essere ora seduta accanto a carol era il ronzio del motore e gli aghi dei rami dell'abete che lei poteva sfiorare con le dita sono felice felice pensava therese facciamo l'albero ora disse carol appena entrarono in casa accese la radio nel soggiorno e preparò un drink per tutte e due c'erano canti di natale alla radio e risonanti rintocchi di campane per cui l'impressione era di trovarsi all'interno di una chiesa carol portò una coperta di cotone bianco per fare la neve intorno all'albero e therese vi sparse sopra dello zucchero perché luccicasse poi ritagliò da un pezzo di nastro dorato un angelo stilizzato che sistemò in cima all'albero e piegati dei fazzolettini di carta ritagliò file di altri angeli da appendere ai rami ma sei bravissima commentò carol ammirando l'albero dal caminetto è splendido mancano solo i regali quello per carol era sul divano accanto al cappotto di therese il biglietto che lei aveva fatto per accompagnarlo era a casa però e lei non voleva darlo senza biglietto contemplò a sua volta l'albero cos'altro ci serve niente lo sai che ore sono la radio aveva cessato le trasmissioni therese guardò l'orologio sulla mensola del caminetto era luna passata è natale disse sarà meglio che ti fermi stanotte d'accordo domani mattina che cos'è da fare niente carol andò a prendere il suo drink che aveva posato sopra la radio non devi vedere richard doveva sì vedere richard a mezzogiorno doveva passare la giornata a casa di lui ma poteva inventare qualche scusa no ho detto che forse ci saremmo visti non è importante posso riaccompagnarti con la macchina domani mattina presto sei impegnata domani carol finì l'ultimo sorso del suo drink sì rispose therese cominciò a far sparire il disordine che aveva creato i ritalghi di nastro e frammenti di carta vellina detestava rimettere ordine dopo avere lavorato a qualcosa il tuo amico richard deve essere il genere di individuo che ha bisogno di una donna intorno per cui darsi da fare che la sposi oppure no disse carol vero che è così perché parlare di richard ora pensò con irritazione therese sentiva che a carol richard piaceva il che non poteva essere che per colpa sua e si sentì a salire da una vaga gelosia pungente come uno spillo in realtà ammiro di più un tipo così degli uomini che vivono soli o pensano di vivere soli e finiscono per comportarsi con le donne nel modo più idiota therese fissava il pacchetto di sigarette di carol sul tavolino davanti al divano non aveva assolutamente niente da dire sull'argomento poteva avvertire il profumo di carol come un filo sottile tra quello più forte dell'abete e desiderava seguirlo fino a mettere le braccia intorno a carol non ha niente a che vedere con il fatto che la gente si sposi vero aggiunse carol come therese la guardò e vide che accennava un sorriso arge è il tipo d'uomo che non permette a una donna di entrare nella sua vita e d'altra parte il tuo amico richard potrebbe anche non sposarsi mai ma il piacere richard lo trarrà dal pensare che vuole sposarsi carol guardò therese da capo a piedi con le ragazze sbagliate aggiunse tu balli therese ti piace ballare carol sembrava improvvisamente fredda e amara e therese avrebbe pianto no disse non avrei mai dovuto parlarle di richard pensò ma ormai era fatta sei stanca su al letto carol l'accompagnò nella stanza dove era entrato arge la domenica e tirò indietro il copriletto di uno dei due letti gemelli therese pensò che dovesse essere la camera di arge non c'era proprio niente che facesse pensare alla cameretta di una bambina pensò alle cose di rindi che arge aveva preso da quella stanza e immaginò arge trasferirsi in un primo momento da quella che divideva con carol poi permettere a rindi di portare lì le sue cose mantenendole lì isolando se stesso e rindi da carol carol posò un pigiama sul letto buonanotte allora disse dalla soglia buon natale che cosa vuoi per natale therese improvvisamente sorrise niente